Io ho partito... Aveva iniziato nel 1960 come semplice piazzista, scalando le posizioni fino alla vetta, ma sempre mantenendo una grande umiltà dentro la Ferrero. Se ne è andato William Salice, l'inventore degli ovetti Kinder, anche se lui ha sempre negato, preferendo condividere con Michele Ferrero, il patron dell'azienda, questo successo. Salice è morto a 83 anni per un ictus. Questo sabato i funerali, con la ricca buona uscita a fine carriera, aveva reinvestito tutto in una fondazione, Color Your Life, all'Oano, dove sosteneva i giovani più meritevoli in varie discipline. Eppure i suoi ovetti restano vietati negli Stati Uniti perché ritenuti mortali per i bambini, in quello stesso paese dove è invece permessa la vendita al pubblico di un fucile d'assalto.